Il momento di fare un giro in libreria per scoprire quali sono le ultime novità editoriali locali con Tutto Libri di Mino Lorusso. Ben trovati a Tutto Libri, l'alba del ventunesimo secolo e il titolo del volume scritto da Roberto Rapaccini con prefazione di Raffaele Federici. Intermedia edizioni, pagine 158-12 euro, un libro che raccoglie alcune riflessioni all'inizio del terzo millennio sull'Europa e sulla politica internazionale, a cominciare dalla minaccia terroristica di matrice fondamentalista. Rapaccini, funzionario in passato del Ministero dell'Interno, sottolinea la debolezza dell'Unione Europea, un meccanismo scrive perfetto in tempo di pace ma con limiti nei periodi di crisi. La strada di fronte ai conflitti che caratterizzano la politica internazionale è di ritrovare solidarietà e coesione intorno ai valori fondanti.